Salve a tutti, bentrovati in questo nuovissimo video. Un saluto a tutti da Max, come sempre parliamo di Grande Fratello Vip edizione numero 7, questa edizione che stiamo cercando di seguire e abbiamo Micolin Corvaia stavolta sotto i riflettori che quindi fa discutere come anche il suo rapporto con Edoardo Tavassi e a metterci il carico da 90 sopra è stata Antonella Fiordelisi che abbiamo visto anche nell'immagine, che ha confermato alcune idee espresse da Clizia cioè la sorella di Micol, entrata lunedì proprio all'interno della casa. La compagna di Paolo Ciavarro è entrata così in tono abbastanza polemico, a gamba tesa, sul rapporto della sorella e Tavassi. Secondo il suo punto di vista, Edoardo si sarebbe un po', un pochino, un pizzichino, un pochito allontanato da sua sorella Micol. Il motivo? Beh, sembra che Clizia abbia notato uno strano e particolare atteggiamento del giovane nei confronti di Nicol Murcia. In pratica ha raccontato a tutti, eh, da parte della Murcia c'è tanta malizia. Se non ci fosse stata questi atteggiamenti con te, Edoardo, li avrebbe anche in presenza di Micol. Ma quando c'è Micol, la Murcia non fa queste cose. Dimmi la verità, hai trovato davvero in Micol una donna che può fare per te o è più un punto di riferimento? Eravate bellissimi insieme. E vi ho sempre supportato. Ma nelle ultime settimane mi sembrate un pochino così persi. Ma c'è amicizia o c'è altro? Allora a quel punto Edoardo Tavassi, totalmente imbarazzato per la scena, ha tranquillizzato Clizia dicendo, eh, con Nicol siamo solo amici, ma si fa così tanto per, cioè, tanto per scherzare. A me Micol mi piace, mi piace assai. Non ci siamo sparati, parolone grosse, perché la vita vera è fuori e non è qui. Lei mi dà tanta leggerezza, ti dico la verità. Ma a Nicol non crede neppure Antonella che ha deciso di dire la sua a Micol. Eh, la cosa che ho visto con Edoardo non mi è piaciuta nei tuoi confronti, se ti devo dire la verità. Dato che tu non sei ancora innamorata di lui, hai avuto una relazione totalmente diversa. Se io fossi stata la fidanzata di Tavassi, l'avrei distrutta. Se vi sto dicendo che non mi fido, ci sarà un motivo, no? Però a volte sei un po' ingenua. Ingenua non è una cosa brutta, capiscimi bene, perché anche io sono ingenua. Ragazzi, svegliatevi, avete più di 30 anni. Tavassi, tavassi e svegliati su. E allora da tutto questo, da tutti questi discorsi si evince la domanda. Ma sarà la fine dell'amicizia con Nicol? Ovviamente noi seguiremo sempre le varie vicende, quindi lo scopriremo probabilmente, ma per ora, per ora ci fermiamo qui per questa news. Vi ringrazio per l'ascolto, come sempre è stato un piacere, un salutone da Max. Lasciate il vostro segno qui sotto, eccolo qui, il segno di riconoscimento e noi ci becchiamo alla prossima, sempre su Pausa Caffè.